Beh ringraziamo anche lo sponso Bacom, pancetta fumicata, fette, sapori genuini, sapori genuini, hai dovuto mettere tutta la pancetta Bacom per questa carbonara oggi di Maurizio Chef di Rang, si stiamo continuando la preparazione e sarà un piatto che si farà a tendere, sarà un piatto che si farà a tendere. Sade, ok? Ve la ricordate? Sade, nothing came con Bacchus official. 1988-18488. Excuse me please, mi puoi dire il titolo in inglese che c'è scritto, per favore, puoi dirmi il titolo qui? Nothing can come between us. Niente succederà all'interno di noi due. Grandissima, anni meravigliosi ragazzi, perché non c'era? Questa donna, la poetessa, grande cantante di lingua inglese, ma di nazionalità algerina? Algerina? Sade? No, nigeriana, nigeriana, nigeria e poi i genitori sono tini in terra, a Londra. Ma come mai lei tornava sempre in giamaica, le piace la giamaica? Nigeria. Ma lei torna sempre in giamaica? Ma in giamaica, perché c'è la villa, normale. Ah, la villa. Anche in Bahama, anche in Bahama. Ma poi mai scappata dieci anni fa? Volevano ucciderla. In giamaica li hanno sparato, è scappata, i poliziotti. Per tasse, per tasse. Cattiveria, eh? Pensa che vita è un po' del... L'isola Caima, l'isola Caima, l'isola dell'Empille, non dell'Empille, non dell'Empille... L'isola dell'Empille, l'isola dell'Empille, l'isola dell'Empille, che la c'è la vita, in Costa Rica, il paese più felice del mondo. Non lo sapevi? Non lo sapevi, non lo sapevi, ma io sono il primo paese più felice, di tutto il mondo. Allora, andiamo tutti in Costa Rica. Va bene? Johnny vieni con me e facciamo un volo insieme. Sì. Chef de Rang, Maurizio. E c'è 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 c'è. Casa Chiovetto Maria Zulia via Tasso Rodigo, grande chef in casa, come... Costa Rica? Costa Rica e vai tranquillo. e vai tranquillo in Costa Rica ah ci consiglia di andare in Costa Rica dove dove è nata Chade che tempi ragazzi che spettacoli come Mina in Italia come quando cantava Mina e e Battisti Mina e Battisti insieme adesso vado a cercarlo ve lo faccio vedere Mina e Battisti oggi ti freschi i obiti o no? si si no perché? oddio avranno una settimana? una settimana ok wow